Ha fatto tappa a Capodorlando, presso la sede della SSR di Contrada Santa Lucia, lo sportello informativo avviato nell'ambito della giornata della logopetia. Tema di quest'anno è la disfagia, ovvero i problemi di deglutizione che in Italia affliggono il 35% dei bambini e il 45% degli over 65. Il logopetista rispetto alla disfagia può intervenire inizialmente con una valutazione clinico funzionale che può in collaborazione anche con altri medici specialistici, quindi l'otorino, il foniatra, eventualmente anche fare delle valutazioni strumentali e iniziare poi un trattamento riabilitativo che ha lo scopo di dare la possibilità al paziente di avere una deglutizione funzionale, e quindi diminuire il rischio di aspirazione e quindi dare suggerimenti rispetto alla preparazione di cibi, alla consistenza, eventuali modificazioni comportamentali durante il pasto e può anche insegnare delle posture e delle manovre che vanno a facilitare l'atto deglutitorio. Presso lo sportello è stata offerta consulenza gratuita sulla patologia da parte di una logopetista affiliata alla FLI, Federazione Logopetisti Italiani. Quest'anno si è riusciti a organizzare molti punti informativi, grazie in particolar modo al direttore del corso di laurea di logopedia, il professore Franco Galletti e la sua equip coordinata dalla logopedista Patrizia Longo, che sono riusciti a creare una rete territoriale portando in maniera capillare tutta Messina e provincia un servizio informativo importante sia per i genitori, sia per i pazienti che per i loro familiari. Per molti pazienti la disfagia rappresenta un problema che incide pesantemente sui rapporti familiari ma anche su quelli interpersonali. Mettiamoci nei panni di un genitore, di una mamma che vede il bambino che emette comportamenti di questo tipo, ovviamente diventa un genitore apprensivo. E la cosa che ritiene più opportuno fare è evitare che il bambino possa nutrirsi da solo se non con la supervisione della mamma altessa. Ora, se questo da un certo punto di vista può abbassare il livello di ansia della mamma, dall'altro può provocare nel bambino una dipendenza diretta, non soltanto dal punto di vista alimentare, ma questa dipendenza può essere generalizzata anche in contesti completamente diversi. Grazie a tutti.